Dal 2015 sono state diverse le città ad essere insegnate come capitale della cultura. Per l'anno corrente è Procida, mentre Bergamo e Brescia saranno le capitali del 2023 e nel 2024 invece sarà Pesaro. La cerimonia di proclamazione si è svolta ieri a Roma alla presenza del ministro Dario Franceschini della Commissione dei Dieci Sindaci Finalisti. Una grande festa per questo storico risultato che vedrà la città pesarese e i comuni limitrofi collaborare per tante iniziative. A spiegarci nel dettaglio è il vice sindaco Daniele Vimini. Riprenderemo il tema anche della candidatura di Fano ad esempio dell'anno scorso che non ha avuto la fortuna di arrivare agli esiti finali ma che rappresenta un bel lavoro e lì sia con il sindaco Seri che con gli assessori siamo già al lavoro per fare in modo che proprio la prima parte del programma e dell'annualità sia caratterizzata dalla spinta e dell'impronta di Fano per poi fare un giro della provincia. I comuni sono 50 quindi insomma una settimana nelle 52 settimane sarà capitale italiana per una settimana con un programma realizzato assieme a noi e che continueremo a scrivere nelle prossime settimane intercettando sia i sindaci e gli amministratori ma anche gli artisti creativi di tutto il territorio per poi terminare idealmente questo anno magico con Urbino perché con Urbino ma in realtà anche qui con tutta la provincia abbiamo lanciato già da tempo la sfida per la capitale italiana e per la capitale europea 2033 e quindi diciamo un anno e mezzo di lancio e di promozione appunto per il 2024 che dovrà essere straordinario sia dal punto di vista turistico come ricaduta ma innanzitutto per una crescita del lavoro culturale e creativo di tutto il nostro territorio provinciale. Lo faremo anche in collaborazione con la regione e anche in sinergia con il comune di Ascoli possiamo dire che oltretutto se saremo bravi a lavorare di squadra in sinergia il 2024 sarà comunque una grande festa per tutte le Marche in ogni caso. La città vincitrice grazie al contributo di un milione di euro messo in palio potrà mettere in mostra per il periodo di un anno i propri caratteri originali e i fattori che ne determinano lo sviluppo culturale inteso come motore di crescita dell'intera comunità. Poi la regione Marche ha messo a disposizione altri 500.000 euro che sono quelli che avevamo richiesto per lo svolgimento del programma hanno manifestato la volontà di raddoppiare questo budget che avevano ancora se su Pesaro o per aiutare lo svolgimento a questo punto del programma anche di Ascoli ma su questo più del valore totale sarà importante il moltiplicatore cioè quanto riusciremo a far rivalere di più con le sinergie e tutto quello che riusciremo a mettere in campo. Il comune di Pesaro metterà un budget importante oltre a quello che già investe in cultura, turismo, formazione e politica giovanili per quell'anno abbiamo stimato attorno ai 2 milioni quindi per raddoppiare questo plafon e poi bisogna fare tutto un lavoro con istituzioni pubbliche e private con imprese e sostenitori per raccogliere da programma abbiamo stimato un altro milione i contributi piccoli e grandi che possano rafforzare sia il budget generale ma anche l'effetto moltiplicatore, l'effetto riempimento del progetto e anche l'effetto di ramificazione in tutto il territorio provinciale.